ragazzi oggi voglio parlarvi di nuvola zero una linea di prodotti con 0% di carboidrati senza zucchero senza lattosio e senza glutina appunto chiamato nuvola zero perché sono talmente leggeri vi faccio vedere che cosa mi ha inviato allora qui abbiamo il pane zero alla curcuma poi qui abbiamo questi dolcetti al cacao poi questo di qua un altro dolcetto alla norciola invece alla vaniglia questi sono fantastici anche come snack al lavoro a scuola da portare con sé poi sono facilissime da poter trasportare in quanto sono piccolini poi qui abbiamo biscotti il cacao altri biscotti qui abbiamo un altro dolcetto alla nocciola questo di qua la vaniglia poi questo di qua il pane crude breed non so come si pronuncia però comunque è un panino un altro panino poi questo di qua pane al gusto pizza buonissimo poi questi qua sono snack con l'origano un altro pane con la curcuma e poi infine abbiamo questo di qua che è un altro pane gusto pizza io ringrazio nuvola zero per tutti questi prodotti metterò in borsa comunque nel mio tempo libero e avrò voglia di qualcosa leggero appunto prenderò voi nuvola zero grazie mille grazie mille grazie a tutti